Italia e Svizzera vanno verso un'intesa sulla tassazione dei frontalieri, un documento che andrà a sostituire il precedente del 1974. I due paesi, scrive oggi il Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno paraffatto l'accordo, termine burocratico per indicare la sigla del documento da parte di tecnici e negoziatori di Svizzera e Italia. Ma il nuovo regime di imposizione, che prevede che i frontalieri paghino il 70% delle tasse in Svizzera e il restante 30% in Italia, è lungi dall'essere in vigore. Manca infatti il passaggio più delicato, la ratifica dei rispettivi governi e soprattutto dei rispettivi parlamenti. Un processo che potrebbe arginarsi di fronte alle richieste dell'Italia. Nelle dichiarazioni unilaterali Roma vuole subordinare la firma e la ratifica dell'accordo, testualmente, all'assenza di ogni forma di discriminazione. I frontalieri devono ancora presentare il casellario giudiziario, spiega Carlo Maderna, responsabile dei frontalieri per la Cisla dei Laghi, e soprattutto hanno un'imposizione che si basa su un moltiplicatore comunale aumentato al 100% contro una media del 70% per i residenti. Sono condizioni, continua il sindacalista, che creano una evidente situazione di discriminazione e non credo che i partiti politici svizzeri più ostili verso i frontalieri facciano facilmente un passo indietro. Anche senza ostacoli di natura politica, ipotesi, secondo il sindacalista Cisla poco probabile, la procedura di approvazione da parte di entrambi gli stati durerebbe almeno due anni. La sigla di oggi è un passo in avanti, conclude Maderna, ma è un piccolo passo e non certo l'ultimo, la strada è ancora lunga. Nelle dichiarazioni unilaterali, Roma ha subordinato la firma dell'accordo non solo all'eliminazione da parte della Svizzera di ogni forma di discriminazione, ma anche all'individuazione di una soluzione eurocompatibile nell'adeguare la legislazione svizzera al risultato del voto popolare sull'iniziativa del 9 febbraio. Il 9 febbraio del 2014 gli svizzeri hanno infatti approvato, a stretta maggioranza confederale, a larga maggioranza in Canton Ticino, un'iniziativa che propone di fissare per il futuro un tetto all'immigrazione.